A poco meno di una settimana dalla presentazione delle liste, la situazione politica a Campora non si è definita. L'attuale sindaco Antonio Morrone ha confermato la propria intenzione di ricandidarsi e nonostante il riservo mantenuto fino ad ora sui nomi che andranno a comporre la compagine da lui capeggiata, ha iniziato a svelare qualcosa. I candidati potrebbero essere gli stessi della scorsa tornata elettorale, ma con qualche piccola novità. Dall'altro lato c'è Marcello Feola, che già da qualche mese ha espresso il desiderio di candidarsi al sindaco del suo borgo natale. Intenzione confermata pochi giorni fa proprio ai microfoni di Infocilento, glissando però sui dettagli della lista. Sembra dunque che si stia delineando una corsa a due a Campora per la fascia di colore. Sono tante tuttavia le difficoltà per formare due liste competitive in un piccolo borgo alla luce del numero esiguo di abitanti. Probabilmente è proprio questa questione demografica a far sì che i candidati continuino a mantenere le carte coperte. Anche il comune di Gioi si apprezza a rinnovare il proprio consiglio comunale. Confermata per ora solo la candidatura del primo cittadino uscente, Maria Teresa Scarpa. Incertezze su una seconda lista. Nei giorni scorsi era avanzato il nome di Elisa Manna come capolista, ma non si escludono sorprese dell'ultima settimana. Nel 2019 Scarpa, con 393 voti, aveva avuto la meglio sugli altri due candidati a sindaco, Leopoldo Enrico e Graziano Barbato. A Domignano prende seno il più piede dell'ipotesi di un'unica lista, con a capo proprio l'attuale sindaco Raffaele Mondelli, tra conferme e nuovi innessi. Cinque anni fa Domignano era candidata a solo una lista, pace e progresso, proprio con Mondelli capolista. Nel caso venga presentata una sola lista per la validità del voto, sarà necessario che si raggiunga il quorum. Nel caso venga presentata una lista per la validità del voto, sarà necessario che si raggiunga il voto, sarà necessario che si raggiunga il voto.